Ciao, benvenuto in questo nuovo video di Pratica la Mente. Oggi vorrei parlarti di un aspetto della vita fondamentale che ci coinvolge sempre in ogni istante della nostra esistenza ed è la comunicazione. La comunicazione, vedi, è fondamentale, è un aspetto veramente centrale. Fin dai primissimi istanti della nostra vita, appena nati, appena iniziamo ad incrociare, come si è dato visto dalle recenti ricerche, già proprio nei primi secondi della vita, lo sguardo della madre. Ecco, da allora, nell'arco di tutta la nostra vita, noi andiamo costantemente a comunicare. Per cui imparare ad avere una buona comunicazione è assolutamente fondamentale. Per questo motivo oggi condividerò con te 15 strategie, 15 riflessioni, 15 esercizi, che potrai mettere in pratica per cercare di migliorare sempre più la tua comunicazione, sia che essa sia rivolta ad un singolo interlocutore, o sia che essa sia rivolta a più persone. Perché vedi, la comunicazione è proprio una competenza trasversale in tutti gli ambiti della nostra vita. Allora, veniamo al primo punto. Il primo punto è proprio questo, cioè la comunicazione è sempre presente. Noi comunichiamo sempre, per cui liberati dall'idea che comunichi quando stai dicendo le cose in un modo o in un certo modo. Tu comunichi sempre, anche quando stai zitto, in qualsiasi istante della tua vita tu stai dando una comunicazione. I tuoi vestiti comunicano delle cose, il modo in cui parli, il modo in cui ti muovi, tutto di te, tutto di te, il tuo odore, tutto, qualsiasi cosa o il profumo, qualsiasi aspetto di te va a comunicare qualcosa. La comunicazione è sempre presente. La comunicazione è di fatto questo continuo passaggio di informazioni che avviene, che porta a tutta una serie di reazioni intorno a noi e dentro di noi. Per cui, ecco, questo primo punto è rifletti sul fatto che la comunicazione è sempre presente. Qualsiasi cosa tu stia facendo o tu non stia facendo, tu stai dando una qualche forma di comunicazione, stai trasferendo in qualche modo un messaggio che potrà essere interpretato in qualche modo da qualcuno. Per cui, tenere a mente questo, tenere a mente che in qualsiasi momento della tua vita c'è una forma di comunicazione che sta avvenendo, è veramente fondamentale. Ed è il presupposto per poter andare avanti a vedere anche gli altri punti. Il secondo è quello di osservare il tuo modo peculiare di comunicare. E qui devi tenere in considerazione che soprattutto gli aspetti non verbali sono stati dimostrati oggi essere quelli fondamentali, quelli più importanti. L'80-90% della comunicazione avviene non tanto sui contenuti, che sono fondamentali, ma soprattutto nel lungo tempo, ma sulle modalità, su come comunichi, su tutto quello che tu passi con il tuo non verbale, con per esempio la paralinguistica, quindi il tono della voce, l'intonazione, il volume della voce, la profondità della voce, qualsiasi aspetto che riguarda la comunicazione diventa fondamentale. La prossimità fisica, per esempio, quando ti avvicini all'interlocutore o meno, quando ti allontani da esso, ecco tutti questi aspetti danno dei messaggi. La tua postura, chiaramente, chiaramente un interlocutore con delle spalle particolarmente curve darà un certo messaggio, piuttosto che uno con le spalle particolarmente dritte. Allora, capisci, qualsiasi aspetto dà un messaggio e tu devi imparare a cogliere. Prima di tutto, e questo è il secondo punto, come tu comunichi, come tu hai imparato a comunicare, perché vedi, molto spesso apprendiamo a comunicare nelle relazioni che viviamo appunto, fin da bambini, mamma, papà, fratelli, gruppo di amici, a scuola. Ecco, questi modelli di comunicazione ci vanno poi a sviluppare un nostro modello inedito che da esso origina. Ecco, divenirne consapevoli, riuscire a riconoscere le nostre modalità proprio di comunicazione, diventa fondamentale. Pensa anche solamente, veramente, all'intonazione della voce, al fatto di riuscire ad usare il diaframma mentre si parla, oppure no, avere una voce più nasale, più chiusa, oppure più profonda. Ecco, allora, capisci, tutto quello che tu fai è fondamentale ed è fondamentale che tu ne sia consapevole, che tu ne prenda coscienza, imparando semplicemente ad osservarti. In questo sono utili, come sempre, pratiche meditative che ci allenano a portare l'attenzione a noi stessi, ma prova anche semplicemente ad ascoltare la tua voce, a registrarti, a riascoltarti, per esempio a farti un video e vedere come parli. Ecco, molto semplicemente. Questo è molto importante perché ci allena a divenire consapevoli di come effettivamente comunichiamo, tenendo presente, come ti dicevo all'inizio, che noi comunichiamo sempre. Per cui analizza tutti gli aspetti che di fatto passano dei messaggi. Il terzo punto che vorrei condividere con te oggi è quello di fare la stessa cosa per gli altri, ovvero impara ad osservare gli altri, impara ad osservare i dettagli, perché i dettagli sono importanti, appunto dall'abbigliamento alla paralinguistica, come ti dicevo, alla prossimità fisica, all'aspetto generale che hanno. Ecco, impara a notare i dettagli, alle posture fisiche, ai vari gesti, alle gestualità che hanno, alle espressioni facciali fondamentali. Impara ad osservare gli altri, nota i dettagli, scopri come se fosse un mondo inesplorato, veramente il modello comunicazionale delle persone intorno a te. Affrontando questo, cercando di comprenderlo, cercando di osservarlo, ne diventerai sempre più esperto e studia anche quelli che sono gli esiti delle comunicazioni che le persone hanno, per cui come di fatto funziona la loro comunicazione. Impara a fare delle associazioni, ecco, ho comunicato in questo modo, quello è stato il risultato. E' fondamentale questo, perché vuol dire portare l'attenzione alla comunicazione, imparando a non darla per scontata, ma riuscendo a riconoscere quanto essa sia fondamentale, a seconda poi anche dello strumento che viene usato per comunicare. Per esempio, se uso internet, uso WhatsApp o uso Facebook, certamente avrà un certo tipo di comunicazione che sarà mediata da tutta una serie di aspetti, che sono semplicemente i messaggi, sono le emoticons, sono le immagini, chiaramente, ma anche qui c'è tutto un mondo da esplorare. Figuriamoci nella comunicazione canonica, vis-à-vis, ecco qua il mondo delle possibili combinazioni diventa veramente infinito. Imparare a conoscere tutti questi aspetti, ovviamente ecco, controllarli tutti diventa veramente impossibile, ma non ha senso neanche controllarli, però imparare a conoscerli, imparare a farci caso. E grazie a questa raccolta enorme di informazioni che il nostro cervello incredibile è in grado di fare, tu puoi riuscire sempre più a creare una rappresentazione sempre più chiara di chi è l'altro, di come si comporta, di cosa dice, di cosa fa. Per esempio, studiando la comunicazione degli altri, è sempre più facile comprendere anche quando gli altri mentono, mentono, per esempio, quando dicono la verità, quando sono sinceri, proprio perché tutta una serie di microespressioni facciali tipicamente danno moltissime informazioni, per esempio, per dirtene una, l'imbarazzo, ecco, molto spesso le persone senza rendersene conto diventano un pochino rosse in viso e questo è importante da notare perché significa tutta una serie di cose. Ecco, impara ad osservare il modo in cui comunicano gli altri, partendo dal presupposto che la comunicazione avviene a 360 gradi, diventa un bravo osservatore. Questo è un presupposto fondamentale se vuoi diventare una persona capace di comunicare bene. Quarto punto fondamentale, allenati a gestire le tue emozioni. Allora, molto spesso noi andando un po' in crisi a livello emotivo non riusciamo più bene a comunicare, allora magari ci chiudiamo oppure appunto diventiamo rosse, andiamo molto in escalation, iniziamo a sudare, iniziamo ad angosciarci e andare in ansia. Allora ecco, imparare a gestire le emozioni è fondamentale, un altro aspetto fondamentale della comunicazione. Vedi, nella escalation per esempio del conflitto, che a volte si verifica quando ci sono diversi punti di vista, la comunicazione diventa fondamentale e soprattutto in essa l'emotività che le persone riescono o meno a gestire. proprio perché quando per esempio si è in un conflitto, su questo ho fatto anche dei video tutorial, sempre in pratica la mente, ce n'è un video in particolare dove spiego bene questi aspetti, quello che succede è che per esempio si passa dai contenuti che si vogliono comunicare alle emozioni, agli stati d'animo, a quello che sta accadendo dentro di noi. Ovviamente questo è controproducente, per cui rimani sui contenuti, stai sul pezzo, impara a gestire le emozioni. Questo è molto importante perché a livello neuronale quello che accade è che proprio il sangue defluisce verso le zone più profonde del cervello, attivando tutta una serie di reazioni emotive ed ormonali e portandoci però ad avere meno capacità di attenzione, concentrazione e quindi di anche buon giudizio rispetto alle scelte da fare anche proprio all'interno della comunicazione. Per cui impara a gestire le tue emozioni. mentre parli. Certi pensieri, questo è il quinto punto, per esempio diventano estremamente debilitanti, per cui il giudizio verso noi stessi, il giudizio verso gli altri, il dubbio, appunto, pensieri veramente svalutanti o di boicottaggio verso noi stessi. Tutta questa molle di cose che accadono è assolutamente inutile perché quello che conta nella comunicazione, come ora vedremo, è completamente altro. È più che altro la capacità tua di osservare, di essere presente, di veramente renderti conto di quello che effettivamente sta accadendo. Ti faccio un esempio pratico. Se per esempio ti trovi a parlare con una persona, vedi che questa a un certo punto prende e se ne va, tu puoi interpretare questo in moltissimi modi diversi. Per esempio, potresti interpretare questo come un segno della tua incapacità totale a comunicare. Oppure magari potresti renderti conto che quella persona si è ricordata di una cosa per lei importante ed è scappata via perché doveva fare qualcosa di molto rilevante, ha ricevuto una telefonata, è successo qualcosa nel frattempo che tu magari inizialmente non l'avevi notato. E allora capisci che tutta la tua interpretazione di quell'atto, in questo caso interpretazione negativa, ecco sono io che non sono bravo se è andata, se è annoiata. Allora capisci bene che tutta questa interpretazione diventa poi qualcosa che va a costruire dentro di te un'immagine negativa dove inizia a convincerti magari di non essere in grado. Allora riuscire ad osservare quello che effettivamente accade riuscendo a stare nella realtà, riuscendo effettivamente a osservare quello che accade. Per cui, quinto punto ti dicevo, elimina tutti i pensieri debilitanti, il giudizio verso te stesso, anche il giudizio verso gli altri perché questo ti impedisce di vedere l'altro nella sua interezza, cosa ne sappiamo noi del perché le persone fanno azione anziché altre? Pensa, gli indiani d'America dicevano questo detto bellissimo, prima di conoscere una persona devi aver percorso almeno 100 anni con i suoi mocassini, proprio per dire che per riuscire a capire l'altro e a valutarne le azioni è complessa, ecco a volte facciamo fatica a valutare le nostre, figuriamoci quella degli altri, per cui elimina il giudizio, semplicemente osserva, si consapevoli di quello che accade, poi potrai fare le tue valutazioni di merito e decidere o meno cosa ne pensi, però questi pensieri costanti, debilitanti, ti impediscono di stare nel presente, ti impediscono di osservare, ti impediscono di vedere quello che effettivamente accade. Sesto punto, questo è quello centrale, fondamentale, perché qua ci rifacciamo ad un grandissimo autore che è stato Paul Václavich, Václavich, come dire, è stato un, è stato un fondamento della comunicazione e lui in particolare parlava di una comunicazione in un modo molto diverso dalle teorie classiche, che sono quelle per cui c'è un emittente, c'è una codifica del messaggio che viene messo, c'è del rumore in mezzo, poi c'è una decodifica dell'interlocutore, c'è una, quindi prima la ricezione, poi la decodifica, c'è un'interpretazione in base al background di riferimento dell'interlocutore del messaggio che è arrivato. Tutto questo è verissimo, questo accade ed è sicuramente importante, però Václavich a un certo punto fa un esempio, dice, tu prova ad immaginarti che ci sia una persona particolarmente arrabbiata, una persona che a un certo punto va in ufficio ma non ha voglia di dire a tutti che è arrabbiata, allora semplicemente che cosa fa? Prende una sedia, pom, e gli dà un calcio. Che cosa fanno le persone intorno? Che cosa pensano? Molto probabilmente penseranno, guarda questo qua è arrabbiato, lasciamolo perdere, il messaggio è arrivato. Però continua Václavich, il giorno dopo la persona ritorna in ufficio, c'è ancora una sedia, ancora vuole dare lo stesso messaggio, ma questa volta sulla sedia c'è seduta un'altra persona e allora dà un calcio lo stesso. A questo punto accadono due cose, la persona cade, la prima possibilità è che semplicemente fa finta di niente, rimane lì fermo e immobile per paura magari di prenderle e lascia correre. La seconda possibilità continua Václavich, è molto più probabile in realtà che la persona si alza, prende questo qua per il collo e dice ma tu come ti sei permesso magari dà pure due sberle. Ora, mettiamo caso che sia questa seconda possibilità, ovvero che la persona si alza, si arrabbia e come dire, risponde a ben ragione a questo aggressore. Passa un altro giorno, la persona ancora arrabbiata ancora vuole dare lo stesso messaggio. Il giorno prima le ha prese da quello che era seduto sulla sedia, ritorna in ufficio, ancora c'è la sedia e ancora c'è la stessa persona seduta sopra. Ora, secondo te, cosa farà? Darà ancora il calcio alla sedia? No. Perché? Perché ha ricevuto un feedback, perché le ha prese il giorno prima, ha ricevuto un feedback. E allora, Vazzalavi ci spiega, la comunicazione non è lineare, è circolare. Ovvero, nel momento in cui tu mandi un messaggio, quello che conta non è tanto il messaggio che tu hai mandato, come l'hai mandato, con quale modalità, sì, tutto è importante e ne devi essere consapevole, ma quello che conta di più è la capacità che tu sviluppi nel tempo, indubbiamente, di leggere il feedback. Perché è il feedback che va a modificare la comunicazione. Prova a pensarci, questo è l'aspetto più importante. I grandi parlatori, grandi public speakers sono quelli, non tanto, che emettono dei messaggi chiari, precisi. Sì, tutto questo è importantissimo, tono della voce, comunicazione, scelta anche dei passaggi, dei paragrafi, cosa dire prima, cosa dire poco, dopo, scelta delle parole, scelta dei colori, scelta dell'abbigliamento, tutto è importante. Ma questo è il più importante di tutti, ovvero, la capacità di leggere i feedback. Se tu sai leggere i feedback, allora sarai sempre in grado di comunicare bene. Perché? Perché saprai modificare, modulare, alternare, banalmente la tonalità della voce a seconda o il volume di essa, a seconda del tuo interlocutore, a seconda di quello che sta accadendo nel qui e ora della relazione. La comunicazione fatta da tantissime micro interazioni che avvengono costantemente. Se tu ne sei consapevole, se tu riesci a gestirle, questo ti permette di comunicare bene. Per cui apprendi l'insegnamento di Vaclavic, comunicazione circolare, osserva i feedback, manda un messaggio, osserva quello che accade. Questo è quello che conta, questo è l'aspetto più importante, quello più interessante, quello veramente fondamentale per riuscire a comunicare bene. Da esso discendono tutta una serie di questioni fondamentali. Per esempio, settimo punto, mantieni il contatto oculare, banale ma fondamentale. mantieni il contatto oculare, osserva l'altro, mantieni il contatto oculare, fai che l'altro si senta osservato, che ci sia comunicazione anche solamente nello sguardo. Se io parlo mantenendo o guardando da un'altra parte, non essendo presente, non guardandosi direttamente negli occhi, capisci che la comunicazione avverrà in un modo completamente diverso. Ma se io ti guardo fisso negli occhi e mi concentro, allora la comunicazione avverrà in un modo diverso, la tua reazione sarà diversa. Allora, questo è fondamentale e soprattutto ti permette di osservare quello che l'altro sta facendo. E ritorniamo a quello che dicevamo prima. Questo è veramente importante. Mantieni il contatto visivo. Ovviamente tutto con un senso, non è che devi rimanere lì fermo, ecco, può capitare di stoglierlo, però mantieni l'attenzione, sii presente. Il ottavo punto, non interrompere. Mentre l'altro ti sta parlando, a meno che non stia facendo un monologo di tre ore durante una comunicazione che avviene fra due persone, capisci, è inutile che tu lo interrompi, perché se tu lo interrompi dà il via a tutta una serie di processi successivi che porteranno questa stessa persona ad interromperti, ad annoiarsi, a pensare che tu non sei veramente interessato, o a semplicemente a infastidirsi, creando tutta una serie di problematiche nella comunicazione che tu invece devi salvaguardare, devi assicurarti che la comunicazione avvenga nel modo migliore. Per cui, per esempio, un altro punto, il nono, è non pensare mentre gli altri ti stanno parlando. Non pensare ad altro, non pensare a quello che dovrai dire dopo. Pratiche tecniche e meditazioni che ti aiutano a calmare la mente. Non devi pensare, perché se tu pensi l'altro se ne accorge, l'altro si rende conto, se magari non se ne accorge direttamente, sta sicuro che il suo inconscio registrerà questo, perché dentro di noi, come ti dicevo, c'è un computer incredibile che è in grado di monitorare, di raccogliere un'infinità di informazioni, per cui istentivamente poi la persona sentirà questa cosa. Per cui, non pensare mentre gli altri ti parlano, ascoltali, abbi fiducia in te stesso, abbi fiducia che quando avranno finita avrai quello che devi da dire, avrai da dirlo. non ti preoccupare, però lascia stare di pensare mentre gli altri ti parlano, ascoltali, sii presente, prendi nota dentro di te di quello che l'altro sta dicendo, emozionati anche ascoltandoli, perché questo è molto importante, perché questo favorisce la comunicazione, favorisce l'empatia, favorisce l'entrata più in profondità con l'altro. Ora, decimo punto, anche questo fondamentale, una volta che l'altro ha concluso, assicurati di aver capito che cosa l'altro ha detto e allo stesso tempo, una volta che è concluso tu, assicurati che l'altro abbia compreso che cosa tu gli hai detto. Questo scambio è fondamentale, proprio perché permette una comprensione più profonda, permette di far sì appunto che la comunicazione avvenga in un clima più favorevole dove effettivamente c'è l'incontro, dove effettivamente l'altro si sente capito, si sente compreso, dove tu effettivamente a tuo modo, al tuo stesso tempo ti senti anche tu di essere stato compreso e capito. Questo veniamo così all'undicesimo, all'undicesimo punto fondamentale, quello per esempio di riformulare, proprio per riuscire a essere sicuro di aver compreso quello che l'altro ha detto, impara a riformulare, ovvero quando l'altro ha concluso di parlare, tu prova a riassumere velocemente quelli che sono i punti cardine di quello che l'altro ha detto, quindi banalmente una frase del tipo ah ma tu mi stai dicendo quindi che questo, 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 questo? Sì, ah bene, beh ecco allora io ti dico che. Bene, questa riformulazione è molto importante perché intanto predispone l'altro perché l'altro entra nell'ottica di dire bene l'altro mi sta ascoltando, ho capito, quindi è inutile che vada avanti a parlare perché l'altro ha capito, ha compreso, ha riformulato bene quello che io volevo dire. Questa riformulazione è estremamente utile, estremamente efficace. Dodicesimo punto, parla con gentilezza, sì gentile, sì affabile, come già ti dicevo non interrompere ma anche non prevaricare perché sarebbe solamente il segno della tua insicurezza, sarebbe solamente il segno del bisogno di dover mostrare muscoli che non serva a niente, la gentilezza, il parlare in modo gentile, dolce, poi arriverà magari il momento di dire anche le cose un po' più difficili, però se tu mantieni quello standard e lo mantieni forte, salvo case eccezionali in cui magari è necessario proprio un'emergenza bisogna anche urlare, ma però in generale il parlare con gentilezza, con calma, facilita tantissimo la comunicazione, attiva una comunicazione più profonda, da cuore a cuore, dove veramente ci si riesce a sentire, dove veramente si riesce ad entrare maggiormente in empatia e questo aspetto è fondamentale, soprattutto se vogliamo avere una buona comunicazione, banalmente il non mentire, ecco questo è fondamentale, non serve neanche molto a dirlo, nel senso che nella comunicazione più l'altro sente che noi siamo distanti o che facciamo dei giochetti in qualche modo nella comunicazione, l'altro subito lo percepisce, se ne rende conto, per cui maggiormente sarai genuino e integro nella comunicazione, ovvero dici quello che pensi e poi fai anche quello che dici, tanto più assumerai credibilità e verrai ascoltato e la comunicazione avrà sempre maggior valore. Bene, tredicesimo punto, chiarisci i punti che per te sono importanti, questa è un'altra tecnica molto semplice, all'inizio di, guarda, io vorrei dirti questo, questo e questo e questo, e poi dopo te lo dico e alla fine di quando ho finito di parlare il riassumo, quindi sai per me le cose importanti sono come ti ho detto sono questa, questa e questa. Ecco questa aiuta, perché vedi, proprio mentre si parla in genere le prime cose che vengono dette le ultime sono quelle che rimangono maggiormente impresse nella memoria, per cui se tu stesso riesci a fare questo sforzo di sintesi mettendo insieme le parole che vuoi dire, i concetti, i contenuti che vuoi dire, ecco questo sicuramente faciliterà anche il tuo interlocutore. Quattordicesimo punto, rispetta i tempi, già te l'ho accennata, rispetta i tempi e fai rispettare i tempi, per cui se il tuo interlocutore parla per 20 minuti di un qualcosa di estremamente complesso e tu ti sei perso già dopo i primi due minuti, capisci che la comunicazione è già saltata. Allo stesso modo se tu parli per 30 minuti e l'altro è già lì che pensa completamente ad altre cose, tu per primo sei responsabile di accorgertene e di capire come gestire la situazione. Se ti accorgi che l'altro sta pensando ad altro, fermati, che senso andare avanti? Allora rispetta i tempi, impara a modularli bene, per cui se l'altro con di avare dice ma guarda senti, non vorrei interromperti, proprio perché non vogliamo interrompere, però ecco se non posso risponderti bene a questi punti poi rischio veramente di perdermi, per cui ecco se posso risponderti poi puoi andare avanti. Trova il modo elegante, sempre gentile, di comunicare questo e deve essere sensato se l'altro sta parlando da 20 secondi tu subito gli dici così, chiaramente non ha alcun senso. Per cui ecco questi aspetti diventano importanti, il timing nella comunicazione è veramente importante ed è regolato come ti dicevo all'inizio anche e soprattutto dal non verbale, per cui impara veramente ad entrare in questo, a gestire questo e se sei proprio neofita della comunicazione o comunque ti senti così in difficoltà nel comunicare bene, impara ad osservare le dinamiche relazionali nei film ma anche nella vita reale osservando la persona a bar in qualsiasi ambiente della vita. Ecco, quindicesimo punto e ultimo sicuramente non esaustivo nel senso che la comunicazione come avrei ben inteso è un oceano di competenze, di conoscenze ma quindicesimo punto a mio avviso fondamentale è impara a riconoscere il tuo interlocutore. Come diceva Waclavic il feedback è l'aspetto fondamentale ma il feedback dipende da che cosa? Dal tuo interlocutore, dipende dalla situazione, dal tuo interlocutore, dipende da tutto quello che sta accadendo intorno a te. Per questo la consapevolezza nella comunicazione è fondamentale ma tu devi essere consapevole non solo di te stesso ma anche dell'altro. Cosa sta accadendo all'altro? Cosa sta pensando? Cosa sta succedendo? Per fare questo devi conoscere l'altro, devi raccogliere materiale nel senso devi proprio capire la persona che è di fronte o il pubblico di persone che è di fronte, quali sono i loro interessi, quali sono le loro conoscenze condivise, qual è il loro approccio alla vita. Capisci bene che se tu parli di certi temi con certe persone avrai un certo risultato, se tu parli degli stessi temi con altre persone avrai un risultato completamente diverso e anche se vai a modulare, a modificare le tue modalità espressive, ecco tutti questi aspetti devi imparare a considerarli. Considera che vi sono corsi di laurea solamente dedicati alla comunicazione, per cui apprendi questo veramente come apriti alla comunicazione come un mondo che va conosciuto, che va compreso, che va studiato. Ci sono diversi libri anche interessanti su questo argomento, insomma, cerca di approfondire sempre più. In ogni caso, mi auguro che questi 15 suggerimenti che ho condiviso con te oggi in questa sessione di Pratica la Mente possano esserti davvero utili per iniziare quantomeno ad esercitarti in una buona comunicazione. Per qualsiasi approfondimento puoi tranquillamente visitare il mio sito www.ericogambo.org iscriverti al canale e così insomma riceverai anche nel futuro tutti i prossimi video. A presto! Grazie!